un gol importante in una partita sofferta sì sì importante sicuramente perché ci ha permesso di portare a casa la partita però molto sofferta abbiamo rischiato forse anche troppo però l'importante la porta alla casa contasse il risultato già prestazione passare in secondo piano in queste partite un gruppo compatto fino alla fine tante azioni e come come hai visto la squadra squadra diciamo l'ho vista molto bene secondo me sotto il punto di vista del temperamento del diciamo appunto dell'essere squadra come detto te sotto il punto di vista del gioco magari abbiamo fatto partite migliori ma come ti ho detto prima l'importante in una diciamo in una sfida così salvezza era vincere quindi la prestazione su me passa il secondo piano quindi siamo contenti diciamo un bel regalo per la Pasqua però poi le partite successive non vi lasciano tranquilli no è vero non dobbiamo continuare a stare sul pezzo anche anche durante la Pasqua e sono sicuro che ce la giocheremo con tutti e speriamo di riuscire ad andare a prendere le squadre sopra per disputare almeno i play out perfetto grazie grazie a voi